Non puoi generare mai Con chi? Con Sombra Ok, ho intenzione di fare un esperimento a via viso Giocherò un po' più aggressivo del solito Mamma mia Si, gioca aggressivo, ti vengo a parare nel culo Occhio che la prendo nel culo Occhio Lo zende deve andare dal soldo Cosa fai? Si, effettivamente è vero Stai tranquillo Oh, calmati Anno Anzo Non vedo Pusciate lo scudo Pusciate lo scudo Pusciate lo scudo Pugnate Pugnate Ok, vieni qua Reina, Reina, Reina Discordato Discordato Zarya Reina è morto Il soldi era super low Lucio Zarya è un Zarya, Zarya, Zarya Zarya, Zarya Anzo, Anzo, Anzo lo è discordato Oddio Sono morto, è venuto il soldere Scendete, scendete, scendete No, ci sono i soldi Mi vengono sempre a prendere Diciamo il fatti di tic Poi andiamo Va bene Vai Eh No, merda Possiamo provarci No, non possiamo più provarci Dai, one, one, one Ok, vai, vai, vai Pugnate 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 Non facciamo come l'altra volta Non facciamo come l'altra volta All'altro spawn All'altro spawn Difendiamo qui Su questo, su questo angolo qui Sì, ma non fatevi vedere Stai dentro a questo muro Venite con me Chi manca? Eh, arrivate Manca mezzo team Due persone E io sono sul bad spawn Forza, buonanotte Ora che arrivo Io vado in high ground Perché poi mentre c'è il lanzo lì Non ci voglio credere che loro riescono a salire costantemente Comunque ancora una volta Avete ignorato le mie chiamate Io ho detto Su Reynard Non ci ha sparato nessuno Come no? Va bene, va bene Mettici lo scudo Discordate 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 Vado dietro di loro in high ground Se li pushiamo Faccio lo scudo Possiamo pushare se volete Pusha, pusha, pusha Discordate Reynard Anzo, 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 Anzo Anzo, Anzo L'ho, Anzo L'ho Ma Come cazzo Io sono morto Bella ulti Drenar 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 Rubeu, gioca dietro lo scudo di Abyss Non andare negli high ground solo Devo stare negli high ground solo No, no, no La mia chiamata è Stai dietro gli scudi di Abyss No Non posso fare danno Allora Lo fare Stai dietro gli scudi di Abyss Chiamatemi se sei riuscito Il personal di Zarya L'aria L'aria Prossimo Fai tu il tuo Io Morto Eh, era un Ezio A caso Non ti devo dire Pusciali, Pusciali, Pusciali Ora Eh, no No Merda Lì eri troppo avanti Reinhardt, Reinhardt, Reinhardt Devo giocare dietro i scudi Sono dietro lo scudo Non eri dietro i scudi Di davanti lo scudo è morto Lo scudo è morto Ehm Vi avrò dietro lo scudo Ehm Io cambierai qua Sì, devo cambiare a Reinhardt C'ho l'ulti Che faccio Si prende... Eh, prendi Reinhardt comunque Cambio DPS, ok Sì Eh, metti un DPS perchè ne serve uno Zarya looo Non si provi Non ci provi Non ce la posso fare Zarya brush eh Sento l'assi Sì, tranquillo Sì, tranquillo Sto al personal Devo anche prendere Whison in realtà E provare a dai vari l'anzo Eh, faccio fatica Eeeh Questo Anzo mi ha preso un headshot a caso Eh, metà vita Non è di sopra E non abbiamo niente per contestare Vabbè, è già curato Infatti... Sto mandando io Ma è mia Reinhardt, 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 discordato Madonna Muntana Niente Regroup Ha 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 Bello che sei Bello che sei Ah, beh che cazzo vuoi Ehehehe Eh, va la Unso sulla High Ground Io entro un ultimo Non dentro Io entro un ultimo Non dentro Lucio 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 discordato Non aveva bussato il Sol Eeeh Reinhrein Eh, Reinh non riesco a beccarlo Io così non posso giocarla con il soldier Non posso stare in low ground Non posso proprio Non esiste Allora vai Flancali che ti devo dire Ruben Fai quello che vuoi Sei stato su una volta in low ground Allora con calma Reina Zaria Abbiamo deciso Non ho potuto fare niente No non è vero abbiamo fatto due fight Dai basta dopo Vabbè Reina Zaria Soldier Tracer Lucio Ana Devo fare Lucio? Va bene Vuoi Sì Tantissimo Ma proprio tanto Non so chi sia quel tizio Ma ciao No Ruben Saludalo Si esce da sinistra Eh l'idea è sempre quella no? Eh ma non esce mai nessuno Allora per tutti per favore Visto che l'ultima volta abbiamo avuto delle difficoltà Uscite da main Andate cinema Salite le scale Andate nella finestra E andate a destra Ma non sono detto che si uscite da sinistra No o questo Stavo dicendo O questo Oppure stato a destra Però facciamo tutti la stessa cosa Cosa facciamo No c'è un Junkrat Facciamo Facciamo Stato Proviamo a fare Stato Però usciamo comunque da sinistra Per cortesia Allora C'hanno Pausa 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 Ok Comunque stavo dicendo C'hanno Soldier e Ana Che sono i niger E Junkrat Che è di fianco alla statua Ok vai Capito? No non ho capito Dimmi scusa Allora Ana e Soldier Sono i niger Dove era E Junkrat Aveva appena piazzato una trappola Intanto L'hanno rapacciata su main E c'è una Zarya anche E adesso è andato dietro Ok è andato dietro La Che si chiama La statua Dov'è la trappola? Sinistra 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 Radenti al muro Ci siete tutti? Ci siamo Muro su Speed a destra Destra Veloci Tutti a destra Ma allora prendete per il culo Ma allora vi prendete per il culo C'è ragazzi ma scusate A destra Dio merda L'abbiamo detto 70.000 volte Ma a destra qui Cazzo Dobbiamo salire le scale E andare in high ground L'avremmo detto No no non è dietro No ma che è high ground Se parli dietro la statua No io ho detto Statua e poi destra Allora Ma quello è dietro la statua Ma l'abbiamo detto Mille volte che dobbiamo Prendere l'high ground A quel punto si chiama statua A quel punto si chiama statua Se tu chiami statua Stai chiamando Io non ho chiamato Stato Ho detto Era per intendere Ok io sono morto Mi dietro Ok ci sono andato Sono io Vabbè lasciamo perdere Comunque lui Intende dalle scale Cinema 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 Aspetta Aspetta Ho lasciato su una bomba A quanto pare Andiamo su da qua Troppo spam Ragazzi voi andate Io passo in un modo O nell'altro Sono tracer Go Io vi raggiù Andiamo a destra Ora Ora Spida destra Spida destra 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 Andiamo a destra Reinhardt Focussate il junkrat Non so dove Lo vedo E a destra Sono morto di ruolo Nooo Ultus Non importa Andiamo dentro Pina dentro Pina dentro Zarya, Zarya Sono morto da Junkrat Bellissimo Andate a prenderlo State sul punto RENARD MAIN Vai Junkrat Junkrat Peccato il soldier State sul punto Grazie Possiamo andare Vai Uno sul payload Chi ci sta sul payload Io però non ci sono Sulla destra Sulla destra Vai dritto Zarya Sto proteggendo Facciamo sta Zarya Io non vi vedo Mi raccomando Non lo scudo 2 3 2 Lì l'hai salvata Non pushare Sono quasi il graviton Abbiamo graviton? Abbiamo la pulse bomb? No l'ho appena usata Fate graviton smazzate Spera che cosa ci shatter Guarda che adesso uso il graviton Quando ci siano tutti Io sono in posizione quando vuoi Speed Quando ce l'hai Buono Dai Dai ora Oh fuck Sono tutti anti Loro Ok non tirate niente basta Regroup Tiri a loro Non hanno le ulti defensive Tiri a loro Tiri a loro Facciamo shatter Bomba Qualcosa Shatter Aiuto Eh Non c'è aiuto che tenga Non push shatter Tranquillo tranquillo Io potevo usare lo shatter Ma me l'ho sottottenuto No no hai fatto benissimo E' molto lana Andiamo push Dai Devo andare Dai Cd5v5 Andiamo se ne mette lo shatter Andate dentro Ti boosto se metti lo shatter Sto andando dietro a sticcare una bomba Ve lo dico Rain low Rain low Vai vai pusha 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 Lucio Solo dir Solo dir Ok dai Andata bene Non tenere premuto il tasto sinistra Eh dead star Ok ok Non ti da lontano Cerca di fare 3 colpi 3 colpi Che è davvero Fai 3 su payload Ciao Steve Mi fanno sempre piacere quando ci sei per noi Ciao Steve Oh c'è un Junk Junk ha tagliato di noi Junk ha tagliato di noi Anti È anti È morto È uno È uno Vai pusha 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 No 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 Lo scudo a darti In 6 3 secondi 3 secondi Personal Petar Sto curando Ok Lucio ha un HP completamente Occhio Tira sullo scudo Tira sullo scudo E non ce la Non ce la Ok reglupo Non tirate niente Non tirare quella ulti death Morite velocemente Reglupiamo Lo salviamo a parte death Io ce l'ho a 90 C'ho il Gravitano a 60 Allora Loro avranno Gravitano Allora Loro avranno Gravitano L'ho avuto il dilucio Quella di Anna C'è qualcuno in high ground Ok No quella di Anna l'ha tirata Ti è sicuro? Si si l'ha appena tirata Daria 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 morta No Daria Grupper Ok te Non è per niente male 3 pick che abbiamo fatti Molto bene Vattere vattere Non muori O muori o scappi Non stare lì Speed speed Oh Andiamo dentro Andiamo Sono sempre uno ulti da atti Det Non ci vuole andare avanti a me Det vai a destra Dai shatter 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 Tengo la bomba Io te la tengo Ma che cazzo Senti una per me Ah Non shatter Come mi ha preso a me Vecca 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 È brutto sto Icer Però Abbiamo Gravitano da nessuno Al 90 Ok Graviton Pulse Buon prossimo fight Carica un po' la ulti Quando ce l'hai lì ce lo andiamo dentro Lì tieni solo Tieni solo la speed Ok Ok Un attimo Abbiamo Che sei qua 95 95 96 Vai Fatti dare un po' di colpi Buono 96 Io sono pronto quando vuoi C'è il Genji sul lato destra Alla magazzino Genji Genji Ce l'ho Ce l'ho Adesso Ho preso solo Zarya Vabbè Ammazzatela Anna c'è destra Anna destra Eh lo stesso Vai 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 Lucio 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 Anna è morta Occhio Reinhard Spredda Non tenere premuto No No lì spredda C'è un cazzo di Reinhard Balla bella Tu tenere premuto Zarya 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 Predda Soldier 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 Ha usato Ha voltato Soldier Non riesco a Minchia Eh Vabbè L'hanno over curato a merda Ti giuro i suoi che hanno fatto uno Uno Tanta Uno Tanta Non è morto Troviamo a fare advisor l'ultima Possiamo a fare visor L'ultima Eh dobbiamo focussare lo scudo a merda Però Lo faccio girare io Reinhard Voi ditemi quando fate nanoviro che lo faccio girare Oh fuck Ho preso una bomba faccio Ditemi quando Eh andiamo dentro Vai vai ora vai ora Vai ora vai ora vai ora Non vedo te Vai vai Zarya 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 vai 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 Non lo sai dietro Non lo svegliate Faitate Andate sul punto Non lo devi dire però Non lo sai dietro Non lo fa itate Trentino Satorno Anà Anà basso Zero S hacked Soldier 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 I richtig Hallo Zarya nels Zarya 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 True Non poteva entrare Buonasera comunque non voleva essere invasivo allora non ho salutato adesso il colmento. Buonasera Tutto bene? No, però bene. Abbiamo tre minuti e mezzo di scarto Vabbè insomma ne ha finito insomma Per piacere non premere Non tener premuto il tasto sinistro sempre dei colpi anche se c'è un tank davanti liti di sicuro più più magari più headshot Perché ho visto anche ti è arrivata lana addosso Gli ha aiutato il primo colpo perché è quello che non ha spread e il resto non gli ha aiutato neanche uno e lo facevi fuori in due secondi Ok, io li farei quello di prima Prendo nota nel senso Cerco di fare Tu provaci continuare Se ti vuoi merci io prendo zen Sai perché? Perché visto che abbiamo solo la difesa Quindi cos'è che si fa? Quello di prima, prendi diva Non l'ha fatto benissimo Eh, c'era un'anzo in effetti Non ha funzionato bene Non ha funzionato bene perché io ce l'ho tonto No, perché c'era un'anzo del cazzo No, l'anzo mi ha sciottato Ci ha capito Dipendi, ho riso o Reina doveva bene lo stesso Quello che vuole No, il primo posto è perso qua in difesa Era perché era molto fuori in posizione anche solo Era troppo avere steso sul l'astro sinistro però Meglio che rimani sempre qua ruba A meno che tutte le persone Qui mi hanno ucciso Perché tu eri a sinistra Piovere steso Dopo sei riuscito a scappare lì dentro Ti hanno ucciso Ok Quindi dici proprio qua Rimani lì e finchè Dopo tutto il team non è sul punto Tutti i nemici sono sul punto Tutti i nemici sono sul punto Se la gente l'ho uno Non so chi Ma sono tutti i nemici Ce lo scivano Dimmi la scimmia a sinistra Sì Liva a sinistra Sono tutti i nemici Si è discordato Però da indietro io non ci posso fare niente Sono ultralo Vabbè devono scendere Vieni qua sotto Sotto l'orologio Sotto l'orologio Sotto l'orologio Scimmia scimmia discordata Scimmia 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 Morta E' di me è il primo Genji 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 Hai discordato Avevo discordato che Lucio era lo Lucio discordato Dio cane Diva Diva Viva Genji Genji Vado sopra Eh no Se la posso Diva discordata Diva no mecca cazzo a giallo avuti carica e la piaccia su questo lasagna sempre da sederci tutto il tempo che c'è dietro il numero di essere unicato vabbè abbiamo perso il gruppo perché ci sono morte in aegra non puoi sono arrivati in tre a prendere sì lo so ma mi ha preso la tracer prima di scendere fai tutto il giro no 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 ha fatto bene lui a scendere subito perché se fai tutto il giro ti imbottiglia ancora di più rispetto a dove sei lì io potevo scendere ho scelto di fare il 1v1 con la tracer l'ho perso con una tracer a 13 hp e tu chiama che sei andato in high ground invece di dire che dopo tre ore guarda che io sono salito e sono andato ma io ero sempre stato lì e io sono nelle finestre e nelle finestre lì è in quella situazione eri troppo imbottigliato cioè lo zinata non poteva seguirti perché era troppo imbottigliato e allora era di svantaggio ma comunque perso io non avevo uno quindi ci siamo perché avevi il vicolo cieco in cui non potevi vedere una tracer che che ti flencava e infatti ti è arrivato e ti è fatto il 50 per cento di hp in un secondo e vogliamo ora fare ilios dai vava tutto va bene perché soldier su quella palia troppo complesso non riesco a giocarlo lavorano 3 servono si sempre continuo a vedere qual è il positioni migliore provale tutte dopo quando quando vede che non muori e la fine è quello giusto e considerativo e voi con e con i tank cercate di tenerli più pressione invece di quando vi attaccano di girare lo scudo per proteggervi da soli tutto il c'è da soli stesso per proteggere quelle due persone che sono lì sotto cercate di tenere lo scudo dritto davanti ai nemici e avrai la gana ci troviamo che sono già morto quindi qualsiasi ma è perché voi siete lì a fermi ad aspettare che loro vi uscino e invece l'unico se dovete fare a creare spazio per i dps perché se loro non hanno aspetto di sparare hanno 200 hp avevo la scelta e ho scelto di fare il nuovo io non non siamo in attesa un attimo che creano ragazzi qui la formazione anche a davis quest'anno nativa uido mei che erano gengi ruvino gengi zenyatta moira però possiamo fare anche tenata mezzi se non vuoi fare no ma erano infatti se giocate con uido me che ricorda di gelo quello che dicevo di creare lo spazio per i dps nel senso di entrare completamente nel team nemico e seguido si sente che gli arriva un colpo perché la stanno focusando vuol dire che voi non state mettendo abbastanza pressione vabbè ma comunque non ci sono gente che ha flencato nessuno che ha fatto danno fate cose se non fate pressione la guido prende un danno è colpa di tutti quelli che sono sul punto postilla velocissima non ti faccio non ti ho lasciato guido qua perché questa è un'altra mappa dove faccio estremamente fatica con posizione no 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 ma mica hai detto niente qua con guido faccio una fatica bestia mica hai detto nulla sono sempre in una posizione dove l'altra guido mi vede io non vedo lei e devo capire come forse prendere lucio forse lui si è più forte non devi stare troppo facciato il fatto è che le conosco ma devo usare cose in posizioni meno no rubè ti metti la lenda a schiena 50 ti metti anche in alto lì in alto si ma le posizioni qua sul tempio main main lui vai a destra vai dove ti pare dai vediamo il reynard dai vate il reynard non vedo altro ci sono andate sui support i datori reynard senti bene i colpi dell'euro di a destra isolato sulla destra non indietreggiate andate andate soldi il soldi il soldi il scordato morto ottimo lucio il scordato reynard sul punto lui si reynard si ciao zary è risguardata eh raga muoio è risguardata il reynard non ha ancora il fatto di usciuto sta martellando vabbè muori sul punto e andiamo e riprendiamoci ok la guido e rube sono in crouch non mi può vedere chiamategli la guido dov'è proprio tutta la posizione adesso non la vedo quindi non so è sulla colonna soldi era isolato e è disguardato era a puntare le condizioni tutto il tempo non riesco a neanche a resserti è a basso sto salvato si è battito già un po' io sei da solo abyss zarya disguardata sono troppo statico io con mi ha solo ultato zarya credo che muori stai prendendo un casino di una nuova switch alla diva prendi non lo so prendi il tracer proviamo a fare full dive con la guido non lo so evidentemente non funziona no non riuscivo a metti dietro non avevo zarya discordata proviamo ad andare su diretta ha una visore ha una visore è qua sopra troia soldi è discordato moira discordata isolata a destra è sopra a sinistra guido maker discordata guido maker l'ho preso ripeto con un handshot ragazzi a reyn si c'è a reynard lì reynard 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 lucio torno zarya discordata dare lo dare a uno soldi è discordato lucio è discordato soldato 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 c'è mostri reynard è discordato moira low moira ancora low moira morta reynard è discordato zarya zarya per favore venire a sinistra l'area uno ho bisogno di pure soldato 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 a destra uccidete con la cassa di guido chiamato dove è la posizione guido a destra io ho messo a destra lui si è morto è il mago ecco chi è se dici c'è guido uccidete con la guido tu di guido sopra tempio sopra tempio io non l'ho detto l'ho detto io che è sopra tempio adesso zarya discordata ragazzi siete tutti divisi zarya 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 che è bassa è discordata se tira il graviton tiro l'ultimo zarya zarya a sinistra non ti vedo soldato 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 lui si è low ho visto reynard low zarya 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 oh dio fai un check in alto i templi così guarda ogni tanto lui si è discordato poi l'ha discordata dai 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 lo ha come cazzo zarya zarya hai visto la wudochiamo là era sul type mi è scesa non lo vedeva più lo sapevo lo sapevo stai sotto di me lul l'era discordato l'era discordato soldato soldato sul punto soldato è basso wudo sul mega suo la sto tenendo la sto tenendo la sto tenendo se riuscite a contestare ce l'ho ulti ok niente veloce però scelta il 95 ah cazzo dove non ci riesco toccate io toccate tu cazzo no non riesco ok va bene ah io come solo te che ho fatto miracoli abbastanza e come wudo maker hanno messo un headshot bravo no non è vero hanno messo un paio però no ne hai messo due metri farà metri farà cambia 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 metti far fara rodo risa quando vedete un affare voglio farà soldato o farà o farà la gianca a seconda di quello che volete voi togli la scimmia e metti orisa se c'è uno reinhardt è una zara che vi punzecchia e vi arriva davanti e vi sta davanti voi non state lì fermi aspettare che vi tira le martellate andate giù dentro andiamo main andiamo main metti lo scudo appena fuori metti lo scudo appena sul main e proviamo a pullarli è l'unica cosa che deve fare il tracer da destra tracer discordata rodog da sinistra rodog da sinistra luce di scuola letta scusate l'uomo e l'uomo per me no meravigliato l'uomo che cosa successe non avevo letto neanche me a a cazzo ma e quando è cresciato lol fuori sono delicato Ma qual è il mago giusto perché così lo... Quello che ha scritto ce l'ha fatto difficile E qual è aspetta Cover 98 benissimo Gan beat Gan beat Gan beat Gan beat benissimo allora quello si reporta Instant Non è mai cambiato Report Abusive chat Sì 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 Sai io Ti l'ho vinta No io ti hai vinto Ma capito davvero che devo fare cioè nel senso No 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 gioca 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 Hanno perso un cento Non me ne f***a in cazzo Guarda fanno scrivere fanno scrivere così gli banano un altro account Lol Lo riporto un'altra volta giusto perché Guarda che ti venga l'ultima non anche ad essere porti più volte una persona non farlo una sola volta va bene Vabbè anche se No Questa volta ok Ti rischi il ban tu anche se lui e tu puro Se è per due ragioni diverse che ha fatto entrambe va bene Occhio che il soldi mi sta sparando quindi scendo asolo Non ti riesco a curare Io mi mantengo qua a distanza Sì 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 Stai attenti non stai troppo avanti Tanto loro possono venire da main o da destra Vieni in atta destra Vieni in atta destra Vieni in atta destra Vieni in atta destra Gange discordato Allora Vieni in atta destra Spammate main Spammate main Non li fate entrare Pucciate lo scudo Pucciate lo scudo Occhio Rodok sulla sinistra Rodok è discordato Rupo e non sono contento Gange discordato dietro Fatelo sto Genji Eh non c'ho Non lo vedo il Genji mi dispiace Renet è discordato C'è un Rodok sotto Rodok dietro di noi Rodok dietro di noi aiuto Eh Girati di più con Zgnatta Cioè se sei fermo non far nulla e guardi in avanti Senza neanche sparare né curare Sei Rodok dietro di noi Rodok dietro No paura no paura dai dai Cazzo No paura no paura Prega dura dai ragazzi Tirate in ulti del DPS se serve Beh Io non vedo in questo momento Non so Oddio Il Genji che rompi i coglioni Vuoi vedere col tasso adesso Ma era Ma eh stavo camminando C'era in alto a destra In momenti Non c'avete tank la Beccate 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 Mi raccomando portate pressione sugli scudi Rubè vieni dietro un attimo che vengo su con te Ok Rodol sono sulla sinistra Renet è discordato a destra Scudo 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 Toccate il punto Toccate il punto Fate un pochino più avanti Renet è discordato C'è uno di destra Rodol che è destra Genji su di me Ho preso Mercy Cazzo devo ricaricare Dio Genji era ult, Genji era ult Prendete il Rodol che ha discordato Ult Vuoi ultare il loro Genji Eee dopo Ci hanno pressato bene Sì sì Qua sì Al covulo Guardato che a destra va davanti al nostro spawn Cambio Cambio Continuo Continuo Andiamo a sinistra Puoi andare a sinistra Vediamo un po' di cure Dove sei? C'è il Rodol che è sempre a sinistra Oh ragazzi Soldier vieni a sinistra Ragazzi dietro Andiamo 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 Vieni qua Rodol Ok andiamo dentro Rodol che a sinistra Renet a sinistra Renet a sinistra Renet discordato Pusciate Renet Pusciate Renet Cazzo Morto Vai Ruba Aiuto Vabbè non vedo più Masi masi Soldier main Soldier main Bella last Bella last Lucio 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 Punto 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 Fate sul punto Cavateli dal punto Io non vedo in questo momento Adesso adesso lo guardo Scudo 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 Pusciatelo scudo Renet discordato Renet Renet Oh fuck danni Mori Ehm Ma Diva 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 Troppo avanti Soldi è discordato No no lasciameli Lasciameli Soldi è down Merzi Merzi Porco Dio I tasti destri La segna Stai sul punto Stai sul punto Abyss I'm killing the objective Converge on me Questi qua hanno dovuto piccare un McCreece A doppio hitscan Davvero? Perché il loro problema secondo loro è Pharah Non hanno neanche il cervello sti tizzi Bellissimo Renet 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 Non puoi prendere la concentrazione Dai a cazzo duro A cazzo duro vi vogliono dai Bravo Renet 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 Buono buono Lucio 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 Renet Renet è bassissimo Grazie Viva cazzo Il diva mi ha fatto insieme al metri D'avete Oh no puttana Dai che siamo a 99 No ma dai Ah ma tutti e due siamo a 99 Ma che mi crie li è Ruben Eh non ci si fa Ah va Non ti tocca Non ce la fai Vecca Voi due voi di PS siete un po' troppo indisciplinati Un po' troppo indisciplinati E io ho fatto una canzone una volta dai Scusa In che senso indisciplinato che sono andato un po' avanti Si gioca con uno Norida a un certo punto Al momento muore Rube Rube con Fala devi volare sopra al team Perché se no il lavoro che deve fare Mersi Aspetta fermi Il lavoro che deve fare Mersi in una Fara Mersi Con una comp ferma È avere la Fara che la porta in aria Mentre si cala continuamente girando e planando Cura tutti i tank E subito dopo ritorna su Quindi praticamente storia spam e basta Hai i razzi che hanno importato infinita Cosa vuoi fare andare vicino ai miei nemici per nulla E dare al soldi E la possibilità di farti molto più grande È quello che dicevo Noi stavamo pushando a sinistra Sopra al tuo team Devo portare una notizia di servizio importante Ai piani bassi E poi torno al subito Ok Ecco te l'ho detto La fai a root prima Rotta Ruda Ruda Facciamo a roda E poi come positioning con Orisa Non stazionatevi davanti alla porta Prendetevi un angolo Un angolo di 90 gradi E piazza lo scudo E appiccicati praticamente col culo al muro E con Rodog stai dentro Rodog fa col capolino fuori dentro In tutte le mappe controllo in cui giocherete quello Un angolo della mappa lo prendete Che sia magari dal vostro lato Magari da Cioè dalla La metà del vostro lato Vi mettete lì nell'angolino E avete la protezione del muro da dietro Nessuno che vi può spammare Perché lo scudo a forma di porta da calcio E il Rodog Che continua a fare capolino E appena entra qualcuno Vi fate tutto il danno possibile Perché non ha nessuno che lo può curare Ok Sono qua Dai che il mio ripeto è pronto soccorso Perché ha probabilmente Ah gli orecchioni Taglia la mappa Sì 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 Intanto gli chiedevo Non Eh purtroppo Control escort No Escort Questo team Ti segni tutti i nomi E Mai più Perché c'è il mago Screenshot No Swap to spectator Perché tu non conosci il mago Veramente Sono una delle persone peggiori Che popolano questa terra Ah bu Un ladro di ossigeno E di Probabilmente di neuroni Perché di suoi non ne ha Tutto ciò E i streaming belli Ma Ruth non ce l'abbiamo Quindi me la devo inventare Sì Che sta streaming E Facciamo Facciamo no Ma serio Io voglio fare bastion Voglio fare bastion a risa Ti prego Ti prego Voglio fare bastion a risa E voglio Ti prego Ti prego No siamo in difesa Tra la cento Loro ce l'avranno in attacco Quindi noi lo giochiamo in difesa E gli scoppiamo la mamma Ti prego Dovete avere anche Dai andiamo Cosco Allora cosa vuoi Orisa Orisa Benji Giangat Giangat Viva Rodog Sì Vabbè Insomma Non lo so Io dico Questa compra non ha senso Perché C'è diva Che non ha nessun senso Per bastion e giangat Insieme come combo Lo protegge Protegge il bastion E poi se ti metti all'interno Della hitbox del bastione E usi le cure Tu praticamente gli pari 1200 danni Una volta che lo divano Con la col Così chiama Col rodog E se ciccione Quindi l'hitbox Sicuramente Fai pari Più di un riot Allora il concetto È che te ti metti Esattamente lì dove sei Mettiti un pochino Attaccato Qui così Non ti possono pullare E spari Sui loro shield E su Insomma Spari Il positioning Con bastion Dovrebbe essere Sulla legna A destra Sulla legna A destra Cioè La Partiamo da qua A me mi sembra forte Lì Scusa Cioè nel senso Qual è il problema Quel punto della legna A destra Gli fai fare un sacco Di strada Prima di poter Iniziare a spare Decentemente Però no A fine non capo E mo Ah no Farà Il bastion Gli spara E la farà Muore Qual è il problema Certo A questa distanza Vabbè A questa distanza Non fa Dopo te lo spiego E da spostarsi Spostatevi Tracer dietro Tracer low Tracer low Recall Spara a destra Tracer ragazzi Spara a destra Scimmi E non riesco a curarvi Diva discordata Basta Tracer discordata Punto 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 Reset Farà discordata Farà low Viva 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 Quasino Mac Lucio Lucio Point Lucio Point Per favore Qualcuno vada sul point Lo scudo Usate lo scudo Farà 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 discordata Chiama Chiama Meli destri Farà 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 Fidani Arco Dio Ult 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 Chimia discordata Murrena che gioca solo mattel Ciama di un mille di va dietro Ult Lui si è discordato DIVA è dietro, DIVA è dietro, DIVA è dietro, DIVA è dietro, sempre dietro Scimmia discordata, Scimmia discordata Sinistra Sto spostando il sugo Riprendetegli high ground per favore Ruota sull'asse di regno Devi aspettare un riso per se ti guarda Scimmia discordata Scimmia discordata Scimmia morta Bellissimo Lo scudo Soldato in alto a destra Soldato in alto a destra Scimmia discordata Oh Dio Soldato in alto a destra Soldato a destra Fara ulta No, che cazzo ho sbagliato Lucio, 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 Lucio discordato Farà, 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 Farà Farà, Farà, Farà Sono dei nero Uhhh Sono l'ultimo Fara discordata Vai sulle assi, andatevi sulle assi Andiamo sulle assi a destra A destra A destra A destra A destra Vedetevi lì, rimani lì, tra le due rocce di destra e sinistra Rub, vieni anche te Scusate eh C'è Rodogs a sinistra Occhio dai, ti sei da solo Sei da solo Sì 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 E comunque Rodogs da sinistra Rodogs a destra A sinistra scusa Fattemi Fattemi di tirare solo ulti Rodogs discordato Spara Rodogs, spara Rodogs Spara Rodogs, spara Rodogs Che uno c'è Rodogs? Non ti riesco a curare Non ti riesco a curare Vai 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 Scendo scendo Spara discordata Occhio, occhio, occhio Ok Ho ultato proprio intanto Nooo Nooo Sera a destra Usa lo scudo Swap a tracer per tornare Nooo Stai dentro lo scudo, stai dentro Nevermind Vabbè becca 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 Tengo Bastion Tengo Bastion No, 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 no Switcher Se vuoi prendisci 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 Io che ti prendo? Genji E puoi stare Junkrat Qual è il problema? Non lo so Puoi anche prendere Genji Come vuoi Cazzo Un Reaper Secondo me è forte Reaper Hanno Rodogs Vabbè Far la discordata In alto sulla scuola casa Sì, ma è spawnato nel bad Far la super low Bellissimo Balla Grande Bello, bello Usciamoli, dai Comunque quando potete speciare Aspetta, Rubai Aspetta Rodog Rodog Spara Rodog Spara Rodogs Sì Tanno su Tanno su Prodo discordato Sto dietro a destra Sto dietro a destra Sto dietro a destra No, no, no Non lasciate il Mirubi da solo Però Eh, stavo Chiamalo shindlo Vi fate tutto lo scudo Se non l'hai per il fight Merda ho sbagliato Smartel e basta Smartel e basta Bravo Sì, con il martel e basta C'è i farati in alto a sinistra Farò uno Farò uno Farò uno Farò uno D.Va 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 Care group Cazzo 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 Prendi Guido L'ultimo punto è forte, no? No Non controllo questa Occhio a sinistra Occhio a sinistra Farò a sinistra Secondo me si hanno farà merci geniato No, Guido si swappa sempre sul terzo punto Si prende sempre i soldi Perché? Eh, perché Non adesso, non adesso L'altro che è discordato L'altro che è discordato Occhio sei Ero solo che stava passando Peccato è solo il lato Fa la destra È discordata È discordata Andiamoci a dire Curate le soldi E per favore, ok? Andate con Abyss Andate con Abyss Andate con Abyss Andate con Abyss No, 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 no Non ho più la No, no, no Niente Sono stato due ulti No, sono caduto Dio merda Merzilo Merzilo No Eh, sto cercando di prenderle Oh Così millsetto Non hanno scudi ai free shutter Quindi valuta bene quando farlo Ok Facciamo shutter bomba Facciamo shutter bomba Facciamo shutter bomba Nooo Venite indietro Venite indietro Venite indietro Venite indietro Ho preso il momento in cui è abbassato lo Eh, mi spiace No, no, no Poi c'è lo shot Faccio che ho la bombetta di Junkrat Fatta una bomba Eh, usate qualche ulti ve la Non tutte Junkrat discordato Andate sul punto Punto Junkrat Junkrat Lo Rodog Sono trappato Sono trappato Junkrat Il pepe il pepe il pepe il pepe Junkrat È sinistra Zunkrat è qua da me Io tengo davanti Ah, una a uno Bella Rodog discordato Pushate il Rodog Pushate il Rodog Vabbè, basta, back Vai, vai Vai, vai Tranquillo Stiamo pushando o stiamo tornando indietro? No, stiamo tornando indietro Ho chiamato il back Ok Ho chiamato il back e stavo tornando indietro Riprendete la high ground Risettatevi Fatevi tutti i cazzi del caso Riprendete la high ground Altri tu Sono sulla high ground Fai la destra Rodog Ci sta pushando Vai su Rodog D.Va Vai su Rodog Arrivo Da urto quella mercy Mi ha lasciato Mi ha lasciato Mi ha lasciato Senti Rodog sulla sinistra, occhio Aiuto Bella Abyss Rodog, Rodog, Rodog Discordato Vabbè Due minuti e cinque C'è qua Vabbè Hai avuto 8 o 9 occasioni per farlo Ce lo metto? Ci ha fatto il pezzo? No, non ce lo facciamo C'è più cazzo l'ultimo Non preoccupiamoci troppo di fare economia delle ulti finché non riusciamo a usarle bene nell'altro quindi usiamole piuttosto Tanto appena la usate con Reinhardt se smartelli te la ricarichi Perchè nemmeno che smartelli tu ormai l'hai già usata La vogliamo provare la composition col Bastion o vogliamo fare una dive semplice? Loro avranno sicuramente il Bastion Ma andate di Bastion Secondo me no A me piace il Bastion Andate di Bastion subito Non dovete esitare C'è questo quale degli dive campiadi e non si riesce a fare Sul primo punto Sugli altri molto più semplice Possiamo anche fare Orisa Reinhardt eh? Cioè non fa schifo Si però non dovete usare uno scudo che pare il culo di basso nell'altro che lo pare davanti Uno scudo che appena finisce l'altro lo si mette davanti Poi si rifà, si finisce, l'altro si mette davanti Ok Però lascia che faccio il primo io così tanto meno ricarico e così Si si Terzo nel secondo DPS Eeeh Genji Non lo so, Genji, Soldier, più o meno qualsiasi cosa credo Tant'è bella l'arma di Bastion in questa skin Mi piace anche una Tracer, erano un po' di coglioni Fa vedere, fermati un secondo Se vuoi fare una Tracer? Rube, fermati un secondo Eh? Vabbè, effettivamente è bella Guarda che è simpatica È tanto bellina secondo me La faccia è bruttissima È bellissima No, appunto per la faccia Sembra... Come cazzo si chiamava quel figlio Sembra tipo una... Una roba... Una... Una statua tipo di quelle... Di quelle artiche Se me è una delle skin più brutte... Del gioco Allora Lasciamo perdere i commenti di destra Che sono i gusti fuori da tutta la community Sono accettabili Si accettano tutti Perché i gusti sono gusti Però non... Però non devi esplicitarli Fate salire... Fate salire prima il bastion sul periodo E poi andateci voi Perché sennò il pilota inizia ad andare avanti E lui, poverino, ci rimane incastrato L'ho già visto Mettigli l'orbo mentre sale Mettigli l'orbo mentre sale Cosa cazzo cambia? Perché magari gli arriva un pochino di spam E lui... E' bello salvo Vabbè non montagni Vai! Occhio vicino Scimmia 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 Io lo sapevo Guarda Scimmia 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 Passa Lucio Lucio a destra Lucio basso Lucio morto Vai push Oh bellissimo Diva 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 Non lo aspettavano che avevano bastere Sombra Sombra Vai! Saltati sul pelo Saltati sul pelo No 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 niente pelo Niente pelo Perché niente pelo Andiamo qua in agro Andate in due Andate in due Andate voi Tanto siamo io all'asta Vai sulle assi Vai sulle assi Basta che non morite Gancilo Soglierlo Assi Orisa Scudo di Orisa e poi quello di Reinhardt La mette lo scudo Eh aspetta 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 Eh... Un po' più indietro Vado Quasi spaccato Quasi spaccato Non avere paura Rube Siamo in due Che ti moriamo Scusate siamo cascati Diva discordata Diva lui Rube settati non avere paura Diva Zara è quella sola Eh non ho Sto avanti Sono stato discordato Oh vai Oh ulti la va qua Urco dio Vai 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 Usa la usa che li butti in mezzo Grande Venom Eh arrivo arrivo Zaya Zaya Lancia il nuovo Genji 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 Lancia il foto lunghissimo sul payload Lancia il foto lunghissimo sul payload Per favore Palo 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 pensavo il dest Steve smetti per favore Se facciamo le quelle due non ci capisce un cazzo Nessuno Vabbè niente Devi pochettare il bastione Dovrebbe essere già naturale che devi lasciare gli scudi Sì, infatti ero un po' in difficoltà Qua non abbiamo niente per andare in ground Beh ragazzi Avete una cazzo di bocca per parlare Un po' di Però non abbiamo neanche niente per andare in ground Tranquillo Lo scudo rotto Mi cazzo davanti io sennò Via via, lo rimetto Bellissimo Nores Attento, attento, attento No, niente, provato Ok, ok, c'è Sopra, eh, dalla porta Rottene, rottene, rottene Rottene, rottene Dai si pareva Soldier mi ha sfrato Come ha fatto a ucciderne due con quella cazzo di spada Dentro la sua ulti E infatti era proprio dentro la sua ulti Non ho la più pallida idea Sai perché? Sai perché io sono morto? Perché io stavo cercando di scappare dall'ulti del soldier Possiamo cambiare bastion Eh, vici a bastion Prendi Genji No, no Death prendi Genji E Rube prende l'itzkan Uno dei due Prendi McCree Fate il cazzo che volete No, prendi McCree è forte Già che hanno loro Secondo me anche Phara non è male, eh Però fate voi No, no, no Vabbè, allora, let's go Sono una comp senza scudi, McCree Andiamo a destra Andiamo a destra Andiamo a caverna Caverna, andiamo sulla ground Siamo tutti Speed, speed Speed, speed Zen, Zen Zen è basso Zen è uno Bisogna dirti superdato Eh, per prendermi un po' di carica Rodok no Qualcuno è dietro, raga Rodok, Rodok Rosario, Zai sta pushando E io muovo Mario Vai tranquillo Tracer dietro Messi bassa Eh, non riesco a uccidere Bravo, bravo, bravo Mi scudo muore Eh, no, no Mi credi non mi morire Rodok mi scordato Noo Eh Mi hai messo la bolla ma serviva i danni Eh, non l'avevo visto Becca, 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 Rube Raza, vieni dietro Vieni, vieni Spamali, spammali Spamali 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 Sto cercando di scappare Zaria 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 Tracer dietro Lassi Tracer Un No, infatti Vi conviene Secondo me andare da main Io gli shatterò Dalla Ed in uno Andiamo Main Rube va a destra Facciamogli il trappolone sgambetto Però Tiro Tiro Tanto non hanno scudi C'è qualcosa per di per forza Eh Dimititemi Solo che avete pressione Rodok discordato Lo sanno Lo sanno Devo tornare Devo tornare Lo sanno Non posso fare niente Bella 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 Bomba Eh vabbè Mi ha fatto solo a me dai Rodok discordato Zulier discordato Ok Zulier Sparategli al Zulier Discordato Gli sto qua sparando Il problema non è sparargli Il problema è che L'ho fatto scendere spostandomi Comunque Rodok discordato Sto qua davanti e prendo le mazzate Fate che sia per qualcuno Trissero a destra No Chi è che me l'ha fatto andare via Rodok discordato Trecesso di me Grazie Ho il Graviton Ho il Graviton Eh Ma porco Zulier discordato Zulier è uno E' un headshot Zaria discordata Foto greedy Scusate Non è per la nostra ultima Andate di Graviton spada Appena potete papena validata Proprio Ciao Vado 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 Brissi e alla sinistra Eh vado vado... Eh vado drums Non lo vedevo Non me lo puoi dire Vai, vai apposta apposta Opposta Coč C'era il pelo Zeniatta vaice C'era il pelo Eh troppo lontane Vieni vieni Sempre sul pelo Zeniatta è uno Morto Zorro è morto bello 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 3 sul pelle ragazzuoli io mi starò pressione allo spawn magari intanto nessuno 3 è sopra è sceso 3 sta venendo qua dietro no non ci muori diva 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 zaria 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 dietro il muro vai cash il carico oh cazzo merci sinistra merci sinistra merci sinistra punto cazzo mi hai rubato no no prendetelo prendetelo chi è che mi ha passato avanti che stavo scudando rube cosa abbiamo cosa abbiamo noi abbiamo un cazzo no io l'hai in una giustizia no il 40% con tutti i danni che vi prendete io tra poco ci siamo siamo messi meglio di loro loro hanno dato tutti adesso tracer a sinistra merda oddio schifo macri a destra stavo guardando macri e zaria a destra occhio sono loro non ti vedo zed scusa se macri è nato a sinistra a destra occhio mi sarà un cura qua dietro oh cazzo dov'è lo tracer è andata via ok ci sono macri sopra ma come fate a stornirmi la scimmia scimmia è discordata la scimmia la scimmia tracer ha una capina ai ground scimmia discordata fate la scimmia macri sopra in altra destra è basso è bassissimo c'è da mercy pusha 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 mercy mercy zaria nemica è bassa 3 sono al coil mercy sono basso che fenomeno ho mai salvato merci discordata usalo non tira il graviton eeeh c'è l'ulti però cazzo finisce a breve finisce a brevissimo bello bello punto 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 in 3 punto in 3 grandi raga grandi che fatica nooo madonna se quella è di edge ragazzi non avete idea di cosa siano in questo momento ce l'ho registrato nooo cacchio non ho registrato di noi veramente sul secondo punto ho visto tre persone ed edge nooo no no zitta dai lo fa posta lo fa no no devo solo no no devo solo segnalarlo stavolta comunque a parer mio io vado meglio con ma fai lei l'hai bloccato almeno si si eccolo qua e come fai allora a leggere i suoi messaggi se l'ha messo l'ho bloccato e aspetta cosa abbiamo quanto tempo abbiamo ne lo aspettano allora fermatevi tutti si se lo aspettano tutti fermi cosa è questa cosa un minuto di game una zara che si carica l'ulti in minimo un minuto e mezzo no 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 non ho scelto il daere è il primo che ho preso eh per non andare a ask cioè basta di nuovo almo la scimmia secondo me facciamo una bella dive la scimmia la scimmia la scimmia la scimmia la scimmia e la mercy mercy si perchè ana e con il nano boost è effettivo però serve il più mercy che c'è la che può essere in questi va bene facciamo dai mi piace il rumore fa una stella con il mago non so è una citazione dei cavaliari dello zodia non fa il rumore anche se lo spazio lol occhio sopra a sinistra come qua teresa vai a destra vai a destra vai a destra vai a sali sulla high ground e quando ci sei salite tutti e tutti quanti su dimmi quando sei pronto ruber dai ruber ruber comincia a andare non posso andare il soldier mi sta guardando allora saltate cioè nel senso che devi fare mccree mccree discordato mccree discordato l'ho ho bisogno di cure grande il soldier sta guardando me di nuovo Zagher discordata sto solando la ana dietro la redd discordato eh mi ha fatto il soldier da high ground mccree 1 mccree 1 ryanad ryanad stai morire noo porco dio sono tutti non ce la fai a riluppare ci mette tre secondi vai sul soldier Sto torrendo io al payload, sono i spam Kraus dietro al payload, non riescono a toccarmi Solder è uno comunque, morto Vai vai, ultavano E chi ti scordato? Ultate tutti, chi ce l'ulti lo usi No no no, comprivi che ce l'ulti Ma perché non ulti? Ulta Eh, ho usato, calmo, calmo, calmo C'è l'avevi già per l'ultare per restarmi Chi è che è morto? Vecchio, sei morto, Rubè Lucio, 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 Lucio Sono sul punto Ci sono anche qui per terra Ah no 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 Reynard, Reynard Mecree, Mecree, Mecree è discordato Zarya, Zarya ha energy Zarya, 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 Zarya Eh, me ne sono accorto che c'è energy Forchè madonna Allaki, vedi Allaki Mistifica lì Allaki Ok, facciamo una composition da spawn camp No, la lasciamo di sicuro Avete spiegato due minuti di scrim Già difesa e attacco l'avete fatta Quindi... Perchè? Perchè le scrimi sono fatte a posto per allenare difese e attacco Non attacco difese poi per un minuto di game In effetti si è vero Proprio se ne frega Eh ma dopo il mago non sa che ha vinto Sai che non è contento Eeeh Secondo me la composition Per Bastion possiamo riprovarla E la facciamo funzionare come diceva Steve Andiamo subito sul legno Eh ma sul legno non abbiamo contesto Allora non la facciamo dai Facciamo a cazzo ne so Standard soldier Soldier Junkrat Io metterei un reaper Poi vedete voi Proviamo a fare dive, dai Proviamo a fare dive Quanto dobbiamo contestare il payload Allora Possiamo stare troppo lontani e aspettare Ok allora niente No no Quando usate Bastion Il vostro obiettivo è Non è fermare Cioè evitare che il payload raggiunga il punto Non che fermare il payload Perchè non è una comb da contest Quindi Gli assi sono lì E quindi E in questa mappa L'obiettivo non è far raggiungere il punto Non fargli fare strada Quindi dovresti mettere il Bastion nei vagoni Davanti allo spawn Più o meno Prendere il punto Non fargli fare strada Gli saltiamo addosso Gli saltiamo addosso Gli saltiamo addosso quando sono All'angolo Dai Dopo questa venite in squadron Com'è che faccio vedere un bel po' di roba Perchè Non penso avremo tempo stasera Un minuto Io dopo spengo Vai saltate saltate Vado Dai basti 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 Ma andata Andata Renat Renati discordato Mastro è resuscitato Aiuto C'ho il young genji dietro Mastro 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 è discordato Vabbè buono 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 Renat 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 È pulpitato Torno indietro un attimo Renat è uno C'è il backup Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Oh Porco dio Per una volta Scusami se ho fatto una chiamata così Ma era troppo bella lì da non seguire Dai non fare Io quando ti vedo Io quando ti vedo Io quando ti vedo Shinar Ed è la reale E aiutate Un attimo Un attimo Usi C'è Ho Una non Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Non lo cagava nessuno E voi eravate di pressione completa Avete fatto